Live Social Amici di Live Social, bentornati, bentrovati a questo nostro consueto appuntamento questo spazio che ci dà conto di tante professionalità meravigliose tanti professionisti che lavorano, si appassionano, si entusiasmano della loro attività, del loro mondo, del loro credo e vogliono dare tutte le informazioni possibili, anche quindi informazione corretta a tutti coloro che in questo caso sentono la propria, la loro voce e oggi abbiamo il piacere di ospitare Giovanna Doriguzzi del centro Zenzero Life benvenuta a Live Social Grazie, buongiorno a tutti Grazie a lei della disponibilità Allora, Zenzero Life, un centro di yoga, di meditazione, di gioca yoga per ragazzi come mai avete scelto questo nome per la vostra attività? Una bellissima domanda Zenzero nasce dalla unione di due parole Zen, che richiama calma, tranquillità e Zero, che invece è un simbolo, un cerchio perché non c'è inizio, non c'è fine ma soprattutto Zero perché parti da quello che hai, cioè il tuo corpo io penso sempre, d'altronde chi non è interessato per esempio alla salute propria ma soprattutto alla salute dei propri figli ma un bimbo sano sarà sicuramente un bimbo felice ma soprattutto un adulto felice ma quando io parlo di bimbo sano anche secondo le indicazioni che si ricevono non significa solo una mancanza di malattia ma bensì significa un benessere che è completo dal punto di vista sia fisico che mentale Ci parli un poco di Zen Zero Life cioè come viene strutturata l'educazione allo yoga l'insegnamento allo yoga a chi è ideale o comunque a chi può essere più utile la parte per esempio dedicata ai ragazzi, agli adolescenti insomma come è strutturato questo centro? Certo, allora il centro Zen Zero Life si rivolge a tutte le fasce d'età quindi con in particolare nelle fasce d'età dei bambini sto parlando da un anno in su fino agli adolescenti con gioca yoga ed è uno yoga pensato, ideato un percorso educativo ideato proprio per i bambini e ragazzi in cui si affronta yoga, meditazione, respirazione e poi abbiamo anche tutta la parte dell'attività di yoga che continua per tutte le altre persone fino ai 99 anni d'età o quella che vogliamo per me oggi, meno di quanto si possa pensare la fascia dei bambini è una fascia di persone che subisce motivi di stress pesantissimi pesantissimi e purtroppo siamo noi adulti che li generiamo Ah certo, su questo non c'è dubbio Non è per loro Eh certamente, andrei a dare ai nostri amici i riferimenti corretti www.zenzerolife.it Siamo a Padova, in via San Prosdocimo 34 339 76 24 700 il numero di telefono agenzia chiocciolabitarepadovanet.it è la mail Zen Zero Space invece la pagina Facebook Saluto e ringrazio Giovanna Doriguzzi appunto del centro Zen Zero Life Grazie a voi per l'ascolto Arrivederci E agli amici di Live Social dico restate con noi vi ricordo il nostro hashtag interviste storie non andate via Arrivederci